D'altronde la parola di Dio dice chi ci potrà separare dall'amore di Cristo? Sarà la tribolazione? Sarà la penuria? Sarà la fame? Sarà la nudità? Sarà il covid-19? Niente e nessuna cosa ci potrà separare dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù. Ok, intanto voglio darvi un resoconto. Abbiamo seminato questa settimana, come avevo detto domenica, dei calendari abbiamo confezionato. Ci sono dei fratelli che hanno confezionato dei calendari con della cioccolata dentro, con delle praline. Ho chiesto, come avevo detto domenica, se c'era la possibilità di seminare in questura, nella caserma dei Carabinieri, in questi ambiti dove desideriamo che la parola di Dio arrivi. Così questa settimana ho chiesto, avevo un appuntamento con una persona in questura, un'autorità, ho chiesto se si potevano lasciare in portineria dei calendari e mi ha detto, dice no, non è possibile, però dice se me li porti li tengo io, li distribuo io. Così questa settimana ho portato 25, 30, non mi ricordo quanto ne hanno confezionato. I calendari li ho lasciati, mi è arrivato un messaggio venerdì che i calendari sono stati distribuiti, tutti li hanno accolti in questura con gioia, sono stati, come dire, graditi, era contenta la persona a cui li ho lasciato, era contenta che tutti li hanno accolti e gliene ha portato anche uno al questore dove è rimasta comunque molto soddisfatta, il questore di Udine è una donna, è rimasta molto soddisfatta e dice che ha piacere di conoscermi. Spero che mi faccia poi uscire comunque. Sì, vogliamo ringraziare il Signore perché Dio è buono e perché la sua fedeltà dimora in eterno, così questa settimana manderemo, proviamo se li possiamo mandare dentro il Comando Provinciale dei Carabinieri di Udine. Noi li mandiamo ogni anno da sempre, da quando siamo qua li abbiamo mandati qua in caserma alla stazione di Campo Formido, ma quest'anno vogliamo che si possa allargare il territorio. Desideriamo che, perché questo ci parla che c'è fame e sete, perché se li hanno accolti, addirittura mi hanno mandato una registrazione audio di una persona insomma che non crede tanto, però ha preso il calendario. Si è sorpresa anche lei di che si è preso il calendario. Questo ci parla che c'è fame e quindi come Chiesa noi non vogliamo rimanere nascosti dentro un locale, quello che per molti è un capannone, per quello che è un immobile, ma noi vogliamo uscire fuori e desideriamo che la parola di Dio possa arrivare in ogni luogo e tante persone siano benedette dalla parola di Dio. Noi non vogliamo rappresentare una denominazione, ma desideriamo che la parola di Dio possa arrivare dentro le case delle persone, dentro i cuori delle persone e che possano accadere cose straordinarie, perché ogni persona ha bisogno dell'amore di Dio, ha bisogno della parola di Dio. Amen? Soprattutto la Bibbia dice di pregare per coloro che sono in autorità. Non lo dico io, è la parola di Dio. L'Apostolo Paolo scrive a Timoteo e gli dice prima di ogni cosa si facciano suppliche, preghiere, intercessioni. Se oggi sarebbe stato qua avrebbe detto che oggi si mandano i calendari anche alle autorità e quindi noi lo stiamo facendo, di pregare per tutte le autorità. Così questa settimana anche la sorella Moira regalerà per la Chiesa, a spese della Chiesa, dei calendari, li porterà anche alle autorità di Tolmezzo, li porterà al pronto soccorso dove c'è allestita la terapia intensiva, al comando dei carabinieri, perché vogliamo che la parola di Dio arrivi. Almeno dove siamo presenti vogliamo che la parola di Dio possa arrivare nelle case delle persone, nella vita delle persone, perché la parola di Dio è medicina. La medicina che compri in farmacia cura il tuo corpo, ma la parola di Dio cura il tuo corpo, la tua anima e cambia lo spirito delle persone. Per questo è importante che noi portiamo sempre avanti e teniamo alta la parola di Dio. Amen. Così vogliamo ringraziare il Signore, siamo grati al Signore per questo, per me è un successo che possiamo arrivare insomma in questi territori e benedire queste persone care veramente che vi posso dire io conosco delle persone, sono carissime persone in autorità, veramente degne persone. Mi sento benedetto e mi sento graziato di Dio poter conoscere queste meravigliose persone che non usufruisco io, ma ne usufruiamo come Chiesa di informazioni e quindi guide e quant'altro. Così come Chiesa vogliamo sostenerli con la preghiera, vogliamo benedire la loro vita. Ok, credo che siete venuti per ascoltare la parola. Wow, ieri sera chiedevo Spirito Santo ma cosa vuoi dirci domani? Parlaci così, era in travaglio, mi giravo, mi rigiravo e ho ricevuto una parola. Gran timore. E il titolo di questa mattina è Gran timore. Perché Gran timore? Perché oggi viviamo in una società, in un mondo dove viviamo in un declino, non so se vi state accorgendo che siamo in un declino morale. Tutto va alla deriva, c'è mancanza di rispetto, rispetto per le persone, rispetto per l'ambiente, rispetto per Dio, mancanza di rispetto per Dio. La Chiesa in qualche modo deve tenere alto gli standardi divini. La Chiesa in questo tempo deve fare la differenza. Come abbiamo letto in Isaia al capitolo 62 che sulle mura sono state stabilite delle sentinelle, che ricordano a Dio continuamente le sue promesse. E la Chiesa, credo che in questo tempo, ha una responsabilità maggiore rispetto a quella che noi crediamo, pensiamo. Perché in questo tempo la Chiesa deve funzionare da faro, da punto di riferimento, da luce per le città. Noi non ci possiamo permettere di stare dentro i locali nascosti per paura, come feceri i discepoli quando Gesù è morto. Lui già li aveva avvisati, i discepoli si rinchiusero in casa per paura dei giudei. Noi non siamo come loro. Noi siamo quelli che ci esponiamo per predicare la parola di Dio. Siamo coloro che lavoriamo nella nostra vita, nel nostro carattere, per testimoniare il carattere di Cristo Gesù, per testimoniare la parola. Siamo di quelle persone che vogliamo avere rispetto per le persone, per le autorità, per l'ambiente, per le città, per le scuole, per gli insegnanti, per coloro che guidano e per il governo, anche con tutti gli errori che possono fare. È importante che ciascuno di noi possiamo avere rispetto e vi ricordo di pregare per me perché voglio andare a parlare al Parlamento. Ci arriverò. Come? Non lo so, ma ci arriverò. Quanto meno devo parlare. Poi se mi cacciano fuori, se l'accettano Gesù, non l'accettano, però io voglio fare la mia parte. È importante che comunque come Chiesa teniamo alta la parola di Dio e che siamo luce nella città. Cos'è il timore di Dio? Una definizione di timore, tante volte si pensa che è solo paura, ma timore è sentimento di rispetto, oppure rispetto reverenziale. Si ha rispetto per Dio. Dio è grandemente esaltato. La Bibbia dice in prima cronache, iniziamo proprio del rispetto, timore per Dio. Prima cronache 16, 25 dice, poiché l'Eterno è grande, è degno di sommalode, egli va temuto, soprattutto gli dèi. Va rispettato. Sapete, noi tante volte rispettiamo, incontriamo una persona famosa e rispettiamo quella persona, ma Dio va rispettato al di sopra di ogni persona famosa. Va rispettato al di sopra di ogni dèo, qua dice. Ci sono persone che rispettano determinati dèi, tante volte anche tra cristiani. Ci sono pseudo cristiani, ci sono persone che rispettano l'immagine piuttosto che rispettare la presenza di Dio. Come dicevo qualche domenica fa o qualche mercoledì, non mi ricordo, io prima proteggevo Dio, poi ho scoperto che Dio proteggeva me. Prima io cosa facevo? Proteggevo le santine, le immagini, li tenevo nel portafoglio e li proteggevo se si consumavano e pensavo di fare, perché più li proteggevo, più loro proteggevano a me. E quindi piuttosto che essere libero ero schiavo, perché io dovevo proteggere loro pensando che loro proteggessero me. Poi ho scoperto che io non avevo da fare niente perché era Dio che proteggeva me e si prendeva cura di me. E quindi è importante che come Chiesa, come cristiani, fratelli, abbiamo rispetto della presenza di Dio. Abbiamo rispetto di Dio, chi lui realmente è. Egli va temuto, egli va rispettato. E poi il Salmo 76, versetto 7 dice tu, proprio tu devi essere temuto. Chi può resistere davanti a te? E quindi è importante che ciascuno di noi come cristiano individualmente rispettiamo Dio, la presenza di Dio. Rispettiamo la sua persona, il suo carattere, il suo modo di fare, quello che lui pensa, come lui si muove. È importante che noi abbiamo rispetto quando stiamo davanti alla sua presenza in preghiera. E non stiamo dicendo, sto pregando, però allo stesso tempo, aspetta, mi prende il telefonino, signore ti prego, esaudiscimi in questa cosa, aspetta, mi rispondi con un sms, con un messaggio whatsapp. Aspetta, vediamo, non mi ha risposto né con un sms né con un whatsapp. Apro messanger, vediamo se Dio mi risponda neanche questo, vediamo se è arrivato un'email. E quindi è importante che ciascuno di noi, quando ci fermiamo e preghiamo, cerchiamo la faccia del Padre, abbiamo rispetto per Lui. Ci estraniamo da tutte le cose e siamo totalmente ed esclusivamente appartati per Lui. Fermi. E abbiamo rispetto della sua presenza. Dobbiamo avere rispetto per l'adorazione, e dobbiamo adorarlo per chi Lui è. Ancora nel Salmo 89, versetto 7, la Bibbia dice Dio è grandemente temuto nell'assemblea dei Santi. Dio deve essere nell'assemblea, quando noi ci riuniamo, deve essere rispettato. Noi non possiamo fare di testa nostra, ma dobbiamo accordarci e comprendere, capire quello che Lui vuole fare. E dobbiamo rispettare la sua presenza. Siamo noi che dobbiamo accordarci con Lui, e non è Lui ad accordarsi con noi. Abbiamo bisogno di stare composti. Ieri portavo una testimonianza. Ora, state tranquilli, non vi preoccupate, non vi scomponete nessuno. Io una volta mi sono presentato davanti a un'autorità. Quando mi sono presentato davanti all'autorità, ovviamente dal ragazzo, avevo 27-28 anni, insomma, non conoscevo il Signore, e pensavo che era come presentarsi davanti a una persona qualsiasi. Entro, mi siedo comodamente e mi accavallo le gambe. E questa autorità mi guarda e mi dice, per favore, abbassi le gambe. Stavo dicendo, ma che male c'è tenere le gambe così? Si metta composto. Mi sono mortificato. Perché poi ho capito che era un'autorità e davanti a un'autorità bisogna avere anche un rispetto nel corpo, nella postura, come noi ci mettiamo davanti a un'autorità. E così anche nell'Assemblea dei Santi ci vuole il rispetto per Dio. Sapete, noi tante volte perdiamo di vista. La Chiesa, per certi aspetti, ha perso di vista un po' l'onore e il rispetto per Dio. E come ci riuniamo, stiamo facendo una riunione così. Tanto per. Ma quando noi ci riuniamo insieme, almeno credo che noi tutti siamo venuti per onorarlo, per sentire la sua presenza, per avere risposte da parte sua, perché lui ci possa parlare, perché lui ci possa insegnare, perché lui ci possa educare. Noi dobbiamo metterci anche in una condizione, in una posizione, sia spiritualmente, ma sia anche di corpo. Di fatti avete delle sedie abbastanza comode. Non sono scomode le sedie, ma questo non serve le sedie comode per addormentarvi. Serve per stare comodi, rilassati, per potervi godere la meravigliosa presenza di Dio, per poterci godere la meravigliosa presenza di Dio. E quindi noi quando approcciamo Dio dobbiamo avere rispetto per Lui. Talvolta la Bibbia dice che Dio era l'amico di Dio, di Abramo. Noi vogliamo avere, oltre ad avere Dio come nostro padre, lo vogliamo avere come amico, ma amico non significa mancare di rispetto, amico significa avere rispetto per Dio. Sai, con un buon rapporto di amicizia, ci vuole il rispetto. Se non c'è il rispetto nel rapporto di amicizia, l'amicizia si rompe. Così anche con Dio, anche se Lui è papà, Lui vuole essere amico, era l'amico di Abramo, e vuole essere anche amico nostro, perché Lui ci possa parlare in un rapporto di intimità. Noi dobbiamo continuare ad avere rispetto per Lui. Noi dobbiamo continuare a rispettare la Sua persona, chi Lui è. E poi c'è il rispetto per la parola di Dio. Dove ogni tanto noi contendiamo, con la parola di Dio. Ma perché questo versetto? Ma questa è sbagliata, andiamo a ricercare, vorremmo cambiare l'Apocalisse, lo vorremmo mettere al posto dell'Epistole, le Epistole le vorremmo mettere nella Genesi, la Genesi la vogliamo strappare dalla Bibbia, perché ormai non passa più. Ma la Bibbia dice nel Salmo 119, versetto 161, i principi mi perseguitano senza motivo, ma il mio cuore ha gran timore, ha gran rispetto per la parola. Sapete, io quando andavo in chiesa, il pastore ogni tanto predicava, quando andavo in chiesa a Palermo, il pastore ogni tanto predicava e testimoniava dei fratelli che erano più anziani, più di prime nella fede, quello che lui ha conosciuto, dice che quando aprivano la parola di Dio, si inginocchiavano. Quando aprivano la Bibbia, avevano rispetto per la parola. Addirittura qualcuno dice che aprivano inginocchiati nel letto e poggiavano la parola di Dio aperta nel letto, come segno di rispetto, e onoravano quello che la parola di Dio diceva. Quindi applicavano quello che la parola di Dio diceva, l'applicavano nella propria vita. Così io credo che ciascuno di noi deve avere grande rispetto per la parola di Dio. Per questo è importante leggere. Perché lui già ci ha parlato nella sua parola dove ciascuno di noi, piuttosto che contendere o mettere in discussione, tante volte dice questo prendo, questo lascio. Oppure facciamo come la margherita, mi ama, non mi ama, mi ama, non mi ama, mi ama, non mi ama. Andiamo togliendo i petali della margherina, nella margherita, non mi ama. Quello mi conviene, quello non mi conviene. Noi dobbiamo prendere la parola di Dio nella sua interezza, dalla Genesi all'Apocalisse, e tornare insieme, perché è la parola di Dio. E dobbiamo avere grande rispetto per la parola di Dio, dobbiamo leggerla. La nostra vita cristiana, il nostro fondamento, si basa prima di ogni cosa sulla parola di Dio, perché noi non possiamo conoscere Dio nello Spirito Santo, ne possiamo ricevere rivelazione di Gesù, di quello che Gesù ha fatto sulla croce per la salvezza dell'umanità, se non approcciamo prima la parola. Se non abbiamo gran rispetto per la parola di Dio e l'approcciamo con un santo desiderio quando la leggiamo. Non perché dobbiamo leggerla. È giusto leggere la parola di Dio. Come dire, ok, è obbligato, devo leggere la parola di Dio. Siccome domani devo andare a predicare, allora devo leggere la parola di Dio perché domani devo andare a predicare. È come, io parlo nel mio caso, è come se stessi facendo un mestiere. Quindi siccome domani devo andare a lavorare, cosa devo fare? Mi devo preparare gli attrezzi per domani andare a lavorare. Nel caso del pastore, allora siccome domani devo andare a predicare, devo leggere la parola di Dio e quindi devo prendermi gli attrezzi. No! Noi dobbiamo leggere la parola di Dio continuamente, dobbiamo approcciare la parola di Dio, non perché nel mio caso devo andare a predicare un responsabile perché deve guidare il connessione, allora deve leggere la parola, ma dobbiamo avere un rapporto con la parola di Dio. Ovvero significa che noi dobbiamo meditare, dobbiamo avere onore per la parola, dobbiamo leggerla perché cibo per il nostro spirito, guarigione per la nostra anima, forza anche per il nostro corpo, ci dà degli input tante volte alla parola di Dio, lo Spirito Santo ci rivela la parola di Dio, è come se si sguarciassero i cieli su di noi, vengono tolti dai veli e diciamo, wow, guarda cosa dice la parola di Dio. Per questo è importante che ciascuno di noi abbiamo un rapporto con la parola di Dio, non che abbiamo la nostra Bibbia a casa, nel comodino, nella libreria, abbiamo comprato la Bibbia quella grande, quella doppia, con i vari caratteri grandi, la nuova, l'ultima versione che è uscita, ma è importante che ciascuno di noi abbiamo un rapporto con la parola di Dio, che leggiamo la parola di Dio, perché è come il manuale, quando tu vai a comprare un elettrodomestico, nella scatola dove c'è contenuto l'elettrodomestico, ti danno anche il manuale d'uso per quell'elettrodomestico, per una buona funzionalità e per una buona durata dell'elettrodomestico. Prima ti dicono, in grassetto c'è scritto manuale di istruzioni d'uso, avvertenze prima di mettere in funzione l'elettrodomestico, è importante che tu ti studi tutto il manuale. Così il fabbricante ti garantisce l'elettrodomestico se tu usi l'elettrodomestico con le prescrizioni scritte nel manuale d'uso. Così Dio può garantire una vita abbondante in noi se noi abbiamo rispetto per la sua parola. Ma se noi non abbiamo rispetto per la sua parola, Dio non può garantire. Lui mandò la sua parola. C'è stata fatta dono della parola di Dio dove ciascuno di noi deve leggerla e deve leggerla con rispetto. Dice, wow, guarda la parola di Dio dice così. Non devo parlare male dei fratelli. È la parola di Dio. Non parlo male dei fratelli. La Bibbia dice che non devo peccare. Signore, sto commettendo dei peccati. Rivelami se ci sono dei peccati e io non voglio più peccare. Ma a volte diciamo, sì, sono umano. Quindi, sì, la parola di Dio dice così, che non devo peccare. Però, signore, è come si fa a non peccare. È un'abitudine che io ho di peccare. Quindi, eh, eh, devo peccare. La Bibbia dice, non mentite noi negli altri, signore, ma l'ho sempre fatto. Ma perché non devo farlo più? Ok, ma perché la parola di Dio dice che non devo... Ma perché sparlare i fratelli è male? No. È peccato. Non è male. Allora dobbiamo... È importante che ciascuno di noi diamo il giusto valore, la giusta importanza alla parola di Dio e la rispettiamo. Amen? Poi c'è l'onore, il rispetto per lo Spirito Santo. C'è un passaggio molto bello nella Bibbia che mi piace tantissimo dove ho preso una parte e ho fatto il titolo di questa predicazione Gran Timore. In questa parte della scrittura in Atti al capitolo 5 ci parla della Chiesa dove nella Chiesa c'erano dei fratelli che volevano in qualche modo usare mezzi umani per accedere a realtà divina. E cosa fecero questa coppia di fratelli? Erano Anania e Saffira. Si accordarono di nascosto per mentire a Pietro ma non sapevano, avevano perso di vista che loro non stavano mentendo a Pietro ma stavano mentendo dallo Spirito Santo. Così la Bibbia dice che quando si presentarono da Pietro e portarono il ricavato dicendo guarda noi abbiamo venduto questo terreno e desideriamo offrirgli al Signore è come era una cosa insaputa come dire non lo sa nessuno lo sappiamo tutti e due e possiamo accordarci non lo diciamo a nessuno così anche noi possiamo essere onorati davanti a tutta la Chiesa così anche noi possiamo farci belli davanti al Signore e quando Anania e Saffira arrivarono prima ci arrivò Anania e portò il ricavato di quello che avevano venduto Pietro lo guardò negli occhi e gli ha detto Anania ma veramente questo è il ricavato di quello che hai venduto e Anania gli ha detto sì e voi sapete tutti quanti la storia che Anania cadde a terra aspirò e Pietro gli ha detto ma perché hai mentito allo Spirito Santo Anania aveva perso di vista lo Spirito Santo che nella Chiesa c'era lo Spirito Santo Anania aveva perso di vista quello che lo Spirito Santo stava facendo nella Chiesa e lui pensava di avere a che fare con un uomo aveva a che fare con Pietro e pensava che tutto quello la sua attitudine era nascosta davanti a Dio davanti allo Spirito Santo e Pietro ha avuto rivelazione del suo cuore e gli ha detto Anania ma perché hai mentito allo Spirito Santo tu non stai mentendo agli uomini ma stai mentendo allo Spirito Santo e così dopo arrivò la moglie ignara dell'accaduto la Bibbia dice che suo marito era morto subito all'istante ora pensate un attimino davanti a tutta la Chiesa Pietro gli dice ad Anania Anania ma è veramente questo il ricavato Anania dice sì è veramente questo e Pietro gli dice ma perché stai mentendo allo Spirito Santo tu non stai mentendo agli uomini e quest'uomo davanti a tutta l'assemblea cade a terra e muore e lo portano via e l'assemblea vede tutto questo e dice mamma mia e subito dopo la Bibbia dice non avevano finito di seppellire Anania che arriva alla moglie la moglie e Pietro gli fa la stessa domanda alla moglie gli dice Saffira dice ma di un po' è veramente questo mi confermi quello che tuo marito ha detto Saffira era ignara di quello che era accaduto e gli ha detto sì è veramente questo e Pietro la stessa identica cosa questa donna cadde a terra morì e i giovani entrarono avevano finito di seppellire il marito entrarono e la Bibbia dice in atti capitolo 5 versetto 11 dice allora un gran timore venne su tutta la chiesa e su tutti quelli che odivano questa cosa davanti a tutti accadde qualcosa di spaventoso quello che oggi dice ma è una bugia per una bugia si può morire davanti alla santità di Dio eppure stiamo parlando qua della grazia Gesù già era morto era risuscitato era alla destra del padre c'era un'opera che stava iniziando nella chiesa di Cristo Gesù e qualcuno stava introducendo dentro la chiesa il peccato la menzogna e lo Spirito Santo ha dovuto intervenire per bloccare per sradicare la menzogna il compromesso dalla chiesa al punto tale da svergognare le opere del diavolo perché dire bugia è un'opera di magia è un'opera del diavolo e lo Spirito Santo pubblicamente ha dovuto svergognare l'attitudine di Anania e Saffira perché scendesse un gran timore nella chiesa un gran rispetto per la chiesa per Dio e la Bibbia dice al versetto 11 allora dopo che accaddero questi fatti venne un gran timore su tutta la chiesa non sui locali ma sulla chiesa sulle persone e su tutti coloro la Bibbia dice che odivano queste cose la conseguenza della purificazione sapete cos'è al versetto 12 dice molti segni e prodigi erano fatti fra il popolo per le mani degli apostoli e tutti di comune accordo si trovavano sotto il portico di Salomone ma nessuno degli altri osava unirsi a loro il popolo però li esaltava e sempre di più la Bibbia dice si aggiungevano uomini e donne in gran numero che credevano nel Signore ora pensate un attimino cosa lo Spirito Santo ha dovuto fare nella chiesa prima ha dovuto purificare la chiesa ha dovuto estirpare il compromesso dalla chiesa è dovuto scendere un gran rispetto su tutta quanta la chiesa perché gli apostoli potevano fare segni prodigi e miracoli e Dio poteva giungere alla chiesa oggi noi ci dobbiamo fare delle domande credo che tutti quanti voi vi siete fatti delle domande ma perché non c'è malgrado tutto quello che sta accadendo non c'è così una grande crescita di fratelli di persone che arrivano al Signore vi siete fatti questa domanda come mai nelle nostre città non ci sono locali dove possono contenere 10.000 15.000 persone come mai nella nazione non ci sono chiese così grandi locali così grandi di accogliere chiese di 20.000 persone come mai malgrado tutto il lavoro che si possa fare per evangelizzare per predicare l'Evangelo per testimoniare alle persone di Gesù regaliamo il calendario portiamo il volantino regaliamo l'Evangelo il libro la Bibbia come mai non c'è questa grande raccolta di anime è perché c'è qualcosa che lo Spirito Santo vuole fare nella nostra vita nella Chiesa è quella di purificare prima la Chiesa perché tutti quanti noi possiamo camminare nel timore del Signore tutti quanti noi realmente possiamo rispettare Dio possiamo rispettare la Sua Parola possiamo rispettare lo Spirito Santo possiamo avere onore e rispetto per i principi spirituali mettere le priorità nella nostra vita quello è un modo per poter onorare anche Dio a volte noi le nostre priorità sono le cose materiali non sono le cose spirituali prima vengo io poi viene Dio prima viene il pranzo poi viene l'ascoltare la Parola di Dio prima vengono i miei desideri il mio sport e poi viene Dio non ho tempo per pregare non ho tempo per leggere la Parola non ho tempo per stare con i fratelli non ho tempo per fare questo non ho tempo per fare quello questa è una forma di compromesso non ho tempo per investire tempo per Dio non voglio servire in chiesa ma perché lo devo fare io lo fa un altro io l'ho fatto per tanto tempo allora adesso è finito il mio turno è bene che lo facciano gli altri e sai anche io dicessimo adesso mi sono stancato mi prendo un po' di riposo anch'io perché tutto questo perché abbiamo perso di vista il focus la santificazione il rispetto l'onore e io credo fratelli che lo Spirito Santo ci vuole parlare che se noi vogliamo vedere i nostri familiari i nostri amici le nostre città se realmente dobbiamo entrare in questo benedetto campo in questo stadio qualcosa noi la dobbiamo fare non è che entreremo là perché scasseremo la porta o salteremo i cancelli per entrare nello stadio là perché dobbiamo fare o perché lo vogliamo fare così qualcuno ci possa come dire elogiare o dice oh guarda loro sono entrati oh che bello no no noi ci vogliamo entrare là perché vogliamo che le persone ascoltano la parola di Dio perché tutti insieme possiamo lodare innalzare glorificare il re del re il signore dei signori ma perché Dio possa aprire delle porte perché Dio possa aprire quei cancelli la Chiesa ha bisogno di camminare in integrità nel timore dovuto al Signore nel rispetto dovuto al Signore allo Spirito Santo e dobbiamo accordarci e tenere in grande stima e in grande onore lo Spirito Santo quando noi preghiamo quando ci riuniamo con i fratelli quando siamo solo a casa quando siamo al lavoro quando siamo per strada quando camminiamo sul parco ovunque possiamo non dobbiamo mai perdere di vista che abbiamo a che fare con lo Spirito Santo non dobbiamo dire bugie non dobbiamo mentire la Bibbia dice non mentite gli uni agli altri ma vi dico che tante volte nella Chiesa io vedo fratelli che è facile mentire come se fosse una cosa giusta e quando qualcuno vuole dire la verità dice che è sbagliato stai sbagliando è come se oggi il compromesso è diventato legale e la legalità è diventato compromesso noi dobbiamo camminare nella legalità nella verità è meglio dire la verità dire guardo non sono arrivata ancora a questo non sono arrivata a questa maturità non ho questa comprensione abbi pazienza piuttosto che mentire amèn perché la Bibbia la Bibbia ci parla di cosa è accaduto per mentire e poi il versetto 14 dice e sempre più si aggiungevano uomini e donne in gran numero che credevano nel Signore tanto che il versetto 15 che portavano perfino i malati nelle piazze e li mettevano su lettucci e giacigli finché quando Pietro passava almeno c'era talmente tanto il lavoro che Pietro non si poteva fermare a pregare per tutte le persone malate e quindi siccome era tanto il numero delle persone che stava credendo nel Signore Gesù che si che si aggiungeva alla chiesa e le persone portavano i malati e le persone avevano la speranza di almeno l'ombra di Pietro passa lui non ha il tempo per imporre le mani per pregare una a uno ma quando l'ombra di Pietro passa e l'ombra copre la persona la persona veniva guarita oggi neanche se imponiamo le mani o li prendiamo a calci perché tutto questo dobbiamo farci una domanda fratelli io sto desiderando con tutto il mio cuore perché io non sono indifferente quando vedo le persone nella sedia a rotelle quando vedo le persone malate o quando sento quella persona ha un cancro sta morendo e dico vabbè uno e meno ma credo nella parola di Dio c'è un santo desiderio nel mio cuore di dire Signore guarisci questa persona e io credo che la Chiesa deve arrivare a un livello tale di santità di maturità di rispetto di onore dove lo Spirito Santo non c'è bisogno che noi diciamo Spirito Santo guarisci questa persona libera ma la nostra condotta deve permettere al cielo di manifestarsi sulle persone senza che noi apriamo la bocca senza che noi preghiamo senza che noi dichiariamo ma l'ombra come l'ombra di Pietro passava e toccava copriva le persone le persone venivano guarite liberate io credo che la nostra santità la nostra il nostro rispetto che abbiamo per Dio deve far sì che senza che noi apriamo la bocca diciamo Spirito Santo guarisci scende che lui si compiace della Chiesa la sua unzione cammina con la Chiesa e quando la Chiesa si muove accadono miracoli quando la Chiesa prega quando la Chiesa loda le persone che passano dalla strada quando arrivano in questo posto andano a dire c'è qualcosa di strano quando arrivo qua sento avverto qualcosa di strano le persone quando passano dalla strada dove c'è una Chiesa le persone devono avvertire che in quel luogo c'è una luce un punto di riferimento devono avvertire che spiritualmente c'è qualcosa di diverso da tutti gli altri luoghi ma se noi ci riuniamo soltanto perché è un'abitudine perché è giusto che vado in Chiesa come forma di religiosità perché mi è stato insegnato che devo andare in Chiesa no noi ci riuniamo in Chiesa noi veniamo perché è onorevole stare insieme perché piace a Dio perché la Bibbia dice quanto è buono e quanto è piacevole quando i fratelli dimorano insieme nell'unità perché è là che c'è la benedizione di Dio e quando le persone si avvicinano senza che tu parli senza che tu gli dici buongiorno gli offri il caffè vertono la meravigliosa presenza di Dio e come Dio ci sta dicendo che noi dobbiamo far sì la nostra attitudine il nostro cuore deve attirare il cielo sulla terra come Gesù disse sia fatto in terra come nel cielo e dobbiamo tutto questo ciascuno di noi individualmente deve dire io voglio fare la mia parte Signore se ci sono delle cose da tagliare nella mia vita tagliali e anche se dovrò piangere è come la vigna quando viene potata piange c'è la lacrimuccia e anche se ci sono delle cose che tante volte dobbiamo piangere ma che ben venga come la vigna se non viene tagliata non porterà frutto ci sono delle cose nella nostra vita che devono essere tagliate per portare maggiore frutto amen andiamo un po' avanti il quarto punto stiamo finendo rispetto per il Tempio di Dio e la Bibbia dice nel Nuovo Testamento chi è il Tempio di Dio siamo noi dobbiamo avere rispetto per il nostro corpo perché siamo il Tempio di Dio prima Corinzi capitolo 6 versetto 18 la Bibbia dice fuggite la fornicazione dice qualunque altro peccato che l'uomo commette è al di fuori dal corpo ma chi commette fornicazione pecca contro il suo proprio corpo quindi qualsiasi peccato la Bibbia dice si commette è fuori dal corpo ma chi commette fornicazione la Bibbia insegna che sta peccando contro il proprio corpo e poi aggiunge la Bibbia sempre non sapete che il vostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo che è in voi il quale voi avete da Dio e che voi non appartenete a voi stessi quindi Dio sta insegnando la parola di Dio sta insegnando che quando uno commette fornicazione sta peccando contro il proprio corpo e la Bibbia dice che il nostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo che ci è stato dato da Dio è un dono lui dimora dentro di noi e quindi dobbiamo saper custodire questo Tempio il nostro corpo dice addirittura voi non appartenete a voi stessi come dire come devo trattare il mio corpo aspetta devo fare questa determinata decisione faccio un esempio no sapete che io non sono tanto franc non sono tanto misericordioso io sono così Dio mi ha fatto così mi sta cambiando quando quando un ragazzo che non è sposato deve avere rapporti sessuali con una persona che non è sua moglie dovrebbe andare alla parola di Dio e dice Dio voglio avere rapporti sessuali con questa ragazza posso averli perché il corpo non è tuo devi chiedere il permesso a Dio quindi devi andare a Dio e chiedi a Dio Dio tu vuoi che io abbia rapporti sessuali con questa donna che non è mia moglie o viceversa e vedi Dio cosa ti dice qualcuno direbbe ho sentito l'amen ora la staremo a vedere chi ha detto amen perché anche il diavolo conosce la parola di Dio e anche il diavolo un giorno gli ha detto a Gesù buttati giù da qua perché tanto Dio manderà i suoi angeli e ti prenderà quindi come dire il diavolo conosce la parola di Dio il problema è se noi conosciamo la voce di Dio la voce del diavolo e quindi cosa dovrebbe fare signore devo fare questo tu vuoi e vedi un po' cosa Dio ti dice che noi non siamo padroni di noi stessi noi il nostro corpo è di Dio quindi lui ha mandato lo spirito l'ha messo dentro un corpo e il corpo non appartiene a te è di Dio tu sei solo amministratore del tuo corpo e quindi un amministratore la Bibbia dice che deve farsi trovare fedele perché quando il padrone tornerà vorrà il rendiconto dell'azienda così quando Gesù tornerà vorrà rendiconto del nostro corpo come cosa ne abbiamo fatto come l'abbiamo trattato ora tutti possiamo sbagliare tutti sicuramente abbiamo sbagliato nel corso della nostra vita ma ciò non significa che dobbiamo perseverare nell'errore perché la parola di Dio dice se oggi odi la mia parola non indurire il tuo cuore noi potremmo cambiare la parola di Dio oggi se si ascolti la parola non continuare a fare quello che facevi prima cambia ok dottoronomio capitolo 4 versetto 9 la Bibbia dice solo bada bene a te stesso e veia dirigentemente sull'anima tua ora non è soltanto il commettere peccato nel corpo come rapporti sessuali fuori il matrimonio ma dobbiamo stare attenti anche alla nostra anima di cosa nutriamo la nostra anima di cosa ci abbiamo la nostra mente i nostri occhi cosa guardiamo di cosa ci nutriamo come trattiamo il nostro corpo vabbè intanto mi piace mangiare poi il Signore mi darà crescerà la forza e il vigore no dobbiamo trattare bene il nostro corpo dobbiamo avere rispetto perché il nostro spirito senza il nostro corpo non potrà servire il Signore la Bibbia dice non vinebriate di vino quindi bevevo tanto spiritualmente dipende quale spirito quindi è importante che in tutto ci sia equilibrio rispettiamo il nostro corpo che è il tempio dello Spirito Santo che sicuramente Dio attraverso la nostra vita vuole fare grandi cose e noi attraverso di noi e quindi dobbiamo avere rispetto anche per il nostro corpo che è il tempio dello Spirito Santo amen poi il quinto rispetto ovvero onore timore per la casa di Dio come luogo come tempio la Bibbia dice nel Salmo capitolo 5 versetto 7 ma io per la tua grande benignità entrerò nella tua casa e adorerò con gran timore rivolto al tuo tempio santo sai che questo luogo per molti pensano questo sia un capannone un lotto di un capannone un luogo qualcuno dice un edificio qualcuno ci mette un nome qualsiasi io ti chiedo questo luogo quando noi siamo entrati abbiamo consacrato al Signore e dobbiamo avere rispetto per il luogo come tratti il luogo come parli del luogo perché se è stato consacrato a Dio e noi l'abbiamo consacrato a Dio e quando l'abbiamo consacrato a Dio questo luogo per quanti non lo sanno e molti di voi ci sono qua residui 3 4 5 persone al massimo c'è sempre un residuo che Dio sceglie è la verità quando l'abbiamo consacrato sopra questo qualcuno lo chiama palco io lo chiamo altare sopra quest'altare c'erano dei ministri l'abbiamo consacrato abbiamo pregato abbiamo dichiarato questo luogo che serva per il Signore non per noi di fatti qua non facciamo noi conferenze di business per fare soldi qualcuno una volta era venuto e dice facciamo una conferenza perché voglio vendere materassi e se vendo materassi io vi do una somma di denaro a voi perché voi vi potete sostenere noi ci sosteniamo perché Dio provvede per quest'opera non è attraverso l'attività commerciale che provvede per quest'opera Dio dal gennaio del 2011 fino al dicembre 2020 ha sempre sostenuto quest'opera attraverso le offerte le decime dei fratelli ma non sono stati come dire non sono stati pagati gli affitti attraverso proventi di attività commerciali è stato Dio che ha toccato i cuori dei fratelli delle persone per seminare per poter onorare quello che è giusto da onorare e quando l'abbiamo dedicato abbiamo dedicato perché questo serva per l'uso del Signore e ci sono venute delle proposte cioè vorremmo la sala perché la vorremmo usare la usiamo per Dio la usiamo per predicare l'Evangelo la usiamo per le famiglie per incoraggiare le famiglie per i matrimoni per i giovani è un luogo consacrato a Dio e dobbiamo avere rispetto come parliamo non soltanto di questo ma di ogni luogo che è stato dedicato e consacrato a Dio e dobbiamo avere anche il rispetto degli ambienti quando andiamo in bagno quando entriamo quando i fratelli fanno le pulizie sapete il Signore ieri mi ha insegnato venerdì mi ha insegnato una cosa abbiamo finito la registrazione sulla famiglia e stavo finito la registrazione me ne stavo tornando di là c'era la sorella che stava smontando la tv i fari le lampade i prolunghi e cose di questo genere e mentre camminavo ho visto una busta caduta sotto la sedia l'ho guardato e ho detto vabbè tanto domani fanno le pulizie ho fatto un passo avanti allora l'ospedale santo mi ha detto si è ordinato non lasciare agli altri quello che puoi fare tu ho preso la busta l'ho messa sulla sedia quante volte hai visto le buste cadute sulla sedia e sei passata oltre o sei passato oltre cioè vabbè tanto c'è qualcuno che lo fa perché devo farlo io poi diciamo signore dammi l'unzione per poter sai che l'unzione si riceve dalle cose pratiche quando vai in bagno devi onorare e rispettare i bagni perché ci sono fratelli e sorelle che l'hanno pulito per te per servirti per far vedere alle persone nuove che arrivano che questo è un luogo dove si adora a Dio anche nei bagni si adora a Dio anche con le pulizie si adora a Dio l'ordine si adora a Dio con l'ordine si adora a Dio quando noi arriviamo e troviamo i locali caldi d'inverno che potremmo arrivare anche d'estate e trovare i locali caldi oppure averli raffrescati d'inverno ma noi arriviamo grazie a Dio d'inverno e troviamo i locali caldi qualcuno sta a Maniche Corte ogni tanto sapete che ci dovremmo trovare anche in paesi dove dobbiamo stare col col cappuccio e per quanti non conoscete la storia di quest'opera quando noi abbiamo fatto il primo servizio il 13 febbraio del 2011 qua il primo servizio abbiamo preso le chiavi il 29 gennaio del 2011 il 30 abbiamo iniziato a lavorare il 13 abbiamo fatto il primo servizio e abbiamo costruito questo abbiamo sistemato l'impianto della luce abbiamo buttato giù tutte le pareti dall'altro lato abbiamo fatto le pareti nuove abbiamo fatto tutti i lavori la pittura a scendere tutti i pannelli rimessi su spacchettare tutte le sedie pulire in 14 giorni abbiamo fatto una rivoluzione abbiamo fatto 20 ore di lavorare consecutivamente in particolar modo io e Gabriel poi ci sono aggiunti altri fratelli il primo servizio che abbiamo fatto qua non era mai successo in vita mia avevo terminato all'hotel Cristallo iniziava allora alle 10 e mezza e finiva alle 14 alle 2 del pomeriggio di predicare il primo servizio che ho fatto qua non mi sembrava allora quanto smettevo di predicare perché arrivando a un certo punto le gambe le ho sentite di legno fredde rigide dal freddo che c'era qua e mentre stavo predicando vedevo le sorelle che si alzavano il cappotto lo mettevano anche in testa il freddo che c'era era una roba incredibile una cosa incredibile una pazzia che avevamo fatto per comprare non sapevamo come scaldare quest'ambiente questo luogo e con un fratello per risparmiare con un furgone Renault Express siamo andati a comprare un apparecchio a Roma partiamo la mattina la notte torniamo e per noi era come dire la soluzione come dire abbiamo risolto un miracolo con quell'apparecchio l'abbiamo messo lassù l'abbiamo acceso e abbiamo detto sicuramente ci avevano garantito che avremmo scaldato tutto il locale e arrivando a un certo punto iniziò a buttare aria calda e poi iniziò a buttare solo aria senza calda e vedevo i fratelli e le sorelle che erano qua che alzavano con il cappotto in testa e poi abbiamo sperimentato per la settimana successiva abbiamo noleggiato un attrezzo tipo un phon che usano nei cantieri un cannone che spari aria calda e allora come lo mettiamo perché fa puzza di gasolio e allora abbiamo sperimentato lasciamo quella porta aperta mettiamo un pannello di cartongesso nel mese di febbraio immaginate ragazzi un pannello di cartongesso è spesso 13 mm e allora quell'aggeggio ho messo fuori io ho fatto un foro nel pannello dove ho messo soltanto la parte che buttava aria calda e nel bel mezzo mentre stavo praticando si spegne e sparia solo aria fredda l'aria da fuori la portava dentro e c'era un fratello Agostino che lavorava con me subito correva fuori e accendeva e questo succedeva ogni domenica 3, 4, 5 volte sapete voi siete molti di voi siete arrivati qua avete trovato un ambiente già adeguato ma qua ne abbiamo fatti di sacrifici qua abbiamo pagato il prezzo ci sono stati fratelli che hanno investito la vita i soldi proprio i risparmi il tempo le nottate per questo è importante molti non sanno cosa significa costruire un locale dove si adora Dio per molti pensano che si arriva e è tutto fatto riceviamo soldi dallo Stato dalla regione noi si riceviamo soldi dal cielo da cuori generosi che hanno investito per l'opera del Signore e che continuano ad investire per l'opera del Signore per questo è importante che rispettiamo non soltanto questo ma tutti i locali dove si adora Dio perché sono dei luoghi dove Dio può portare la salvezza alle persone dove persone arrivano e sono stati restaurate le vite delle persone hanno trovato guarigione hanno avuto matrimoni riconcidiati i giovani sono usciti dalla droga persone hanno lasciato cattive amicizie per questo è importante onorare il luogo dove ci riuniamo perché è il luogo dove Dio fa miracoli qualcuno è super spirituale non c'è bisogno dei luoghi non c'è bisogno di finanziare la Chiesa bene domenica prossima ci troviamo a piazza primo maggio al freddo se piove stiamo là e tu devi venire dice ma ci sono zero gradi e non posso venire se hai fede devi stare che se avrai il riscaldamento nel corpo a zero gradi mentre sei seduto fermo io cammino e mi posso scaldare tu stai fermo seduto e vedrai che sperimenterai hai per fede il riscaldamento corporeo o ti lasci là e resti là sulla sedia andiamo avanti abbiamo detto rispetto per il luogo salmo capitolo 5 versetto 7 ma io per la tua grande benignità entrerò nella tua casa e adorerò con gran timore rivolto al tuo tempio santo Matteo capitolo 21 versetto 12 poi Gesù è entrato nel tempio di Dio ne scacciò tutti coloro che nel tempio vendevano e compravano e rovesciò le tavole dei cambiavalute le sedie dei venditori di colombe e disse loro sta scritto la mia casa sarà chiamata casa di adorazione ma voi ne avete fatto un covo di ladroni e anche qua quando Gesù cacciò via tutti quelli che avevano scambiato il tempio di Dio la casa di Dio come un centro commerciale subito dopo la purificazione la Bibbia dice allora vennero da lui nel tempio ciechi e zoppi ed egli li guarì laddove c'è il compromesso non c'è la presenza di Dio non possono esserci miracoli per questo dobbiamo permettere che il peccato esca fuori dalla Chiesa perché la potenza di Dio entri dentro la Chiesa e infine per chiudere l'ultimo punto timore per le autorità c'è una storia molto bella nella Bibbia che parla di Miriam e Aaron un fratello e una sorella usati da Dio che vi ricordate che quando Dio chiamò Mosè e lui prendeva delle scuse che non si sentiva capace di poter parlare e ha detto bene io c'è tuo fratello Aaron che lui è un bravo parlatore io dirò a te tu dirai a lui e lui esporrà il messaggio quindi era un valido collaboratore ma era Dio che aveva scelto Mosè e non aveva scelto Aaron Aaron l'aveva messo come aiuto per Mosè e così arrivando a un certo punto Mosè dice che sposò una donna di colore e a sua sorella non piacque questo e in numeri capitolo 12 versetto 6 loro inizierono a parlare male Aaron e Miriam iniziarono a parlare male di Mosè iniziarono a criticare la scelta che lui aveva fatto e pensavano Miriam e Aaron che nessuno li stava ascoltando così quando noi parliamo male dei fratelli o delle autorità pensiamo che nessuno ci ascolta no? pensiamo nessuno mi ascolta stiamo parlando sorella possiamo parlare insieme ma guarda il pastore Maurizio ma tu mi hai fuori di testa questo grida questo è così nessuno è lungo quando predica è duro perché la fornicazione io devo farla ma perché lui dice che non è peccato tutti lo fanno e nessuno ti ascolta o parliamo di altre male di altre autorità e Dio arrivando a un certo punto è dovuto intervenire personalmente chiama Mosè e gli dice chiama Miriam e Aaron e uscite tutti e tre fuori e Dio si presenta e Dio li riprende e gli dice ascoltate ora le mie parole numeri 12 6 se vi è tra voi un profeta io il Signore mi faccio conoscere da lui in visione parlo con lui in sogno ma non così con il mio servo Mosè che è fedele in tutta la mia casa con lui parlo faccia a faccia facendomi vedere e non con detti oscuri ed egli contempla la sembianza del Signore perché dunque non avete avuto rispetto timore temuto di parlare male contro il mio servo contro Mosè ci sarebbe da fare un'altra predicazione qua perché Dio chiama Mosè mio servo Mosè stava servendo Dio dice con gli altri parla in sogni con detti oscuri ma a Mosè il Signore parlava faccia a faccia dice egli contempla Mosè la sembianza l'immagine del Signore perché dunque non avete avuto rispetto per il mio servo per Mosè perché avete parlato male contro di lui Dio definisce Mosè al versetto 7 dice che è fedele in tutta la mia casa sai io questa mattina faccio l'ospite qua no grazie per la parola che mi avete dato sai se le persone se i fratelli che parlano male si mettessero solo un anno a fare i pastori i conduttori di chiesa vi faccio vedere che nessuno parlerebbe più male perché non comprenderebbero il peso che un predicatore o un pastore ha perché rifletterebbero e direbbero ma chi me lo fa fare sapete a volte nella nazione dell'Italia c'è questo spirito di critica verso le autorità io non sto parlando a mio favore a me me lo potete dire quanto volete io vado avanti poco mi importa me ne hanno detto tante tante me ne diranno me ne dicono e me ne diranno poco mi importa io vado avanti io sto servendo il Signore e ho le idee chiare di non scendere a compromesso con niente e con nessuno ma tanti che criticano i fratelli questo è così quello predica così ma mettiti tu a predicare preparati tu ogni giorno una predicazione devi portare una predicazione diversa l'uno dall'altro e devi avere persone che ti seguono e devi avere la rivelazione di quello che le persone hanno di bisogno devi avere il peso di lavorare senza stipendio devi avere il peso di farti le pulizie quando gli altri non vengono di organizzare quando gli altri ti abbandonano di pregare sta nella presenza di Dio di chiedere a Dio di provvedere quando devi pagare le cose che ci sono da pagare perché la chiesa e i locali devono andare sempre avanti devi chiedere a Dio la sapienza quando devi parlare a uno di padre quando a uno gli devi parlare di figlio quando a uno gli devi parlare da giudice quando devi fare il commercialista quando devi fare l'imprenditore quando devi fare il pastore quando devi fare il consulente e poi ti faccio vedere che dirai ma chi me lo fa fare a me per questo è importante che nelle chiese fratelli scende un timore per Dio per la parola per lo spirito santo per il nostro corpo per il luogo per le autorità la Bibbia dice di tenere insomma stima quelli che si affaticano per il Signore prima a Tessalonicesi capitolo 5 versetto 2 la Bibbia dice domani fratelli prossimo anno anno nuovo vita nuova intanto quest'anno fino al 31 dicembre continuo così la Bibbia dice ora fratelli scusate c'è un errore versetto 12 prima Tessalonicesi ho sbagliato io prima Tessalonicesi versetto 5 capitolo 5 versetto 12 vi stavate confondendo dice ora fratelli vi preghiamo di avere rispetto per quelli che si affaticano fra voi che vi sono preposti nel Signore e che vi ammoniscono versetto 13 dice di averli insomma stima nell'amore per la loro opera lo rileggiamo dice ora fratelli vi preghiamo di avere rispetto per quelli che si affaticano fra voi e sai noi tutti dobbiamo avere rispetto per i pastori per i conduttori che stanno lavorando se ti piace o non ti piace ma se Dio l'ha scelto un uomo o una donna se sono stati scelti da Dio e stanno portando frutto non che si sono autoproposti ma quelli che sono stati scelti da Dio che stanno portando frutto che stanno portando persone alla salvezza non che stanno raccogliendo tutti i malcontenti che ci sono nelle chiese ma quelli che si stanno adoperando per partorire persone nuove che arrivano alla salvezza per partorire quelli che arrivano devono arrivare alla salvezza la Bibbia dice di avere rispetto quelli che si affaticano fra voi i responsabili dei connessi li state rispettando se non rispettate loro non rispettate neanche i pastori non sono persone perfette sono persone imperfette che Dio sta usando per curare in qualche modo per aiutare il pastore di una chiesa e a volte a noi non piacciono io quando ero a Palermo c'erano fratelli responsabili che a me non mi piacevano però stavo là e mi son permesso solo una volta di andare dal pastore e dire sai pastore ci eravamo conosciuti con mia moglie eravamo in riunioni diversi e siamo andati con tanto di rispetto onore e tremore dal pastore per dire sai possiamo cambiare il responsabile per essere insieme che eravamo fidanzati e volevamo partecipare alla stessa riunione insieme con tanto di rispetto solo allora io ho cambiato il responsabile che c'erano tante cose che non mi piacevano ma attraverso quelle tante cose che a me non mi piacevano Dio mi ha potuto cambiare perché non era lui che si doveva accordare a me era io che mi dovevo accordare a lui e poi dice quelli che si affaticano fra voi che sono preposti nel Signore che ci ammoniscono oggi non si può un pastore non si può più permettere di ammonire un fratello di correggere un fratello se parlate con tanti ragazzi che sono qua potete parlare con Moira potete parlare con Sergio potete parlare con Biagia potete parlare con Laura potete parlare con Gloria con Dittimir potete parlare con Francesco dove è Francesco è stato rapito anche lui parlate con Francesco vi faccio vedere quanto parole dolce gli ho detto in questi dieci anni che sta servendo qua però neanche se lo mandiamo a calci lui se ne va della chiesa ci abbiamo provato in tutti i modi a farci trovare pure le porte chiuse si è seduto davanti la porta davanti il portone scherzo grazie a Dio per quest'uomo così tanti di voi comunque fedeli dice di averli insomma stima nell'amore per la loro opera le autorità su di noi fanno un lavoro di perfezionarci fanno un lavoro di renderci perfetti posso aprire il mio cuore e poi come faccio sai né prima né adesso a me l'apostolino non mi ha detto mai ti voglio bene cioè mai il pastore mai che sì ma lui non mi ha detto mai ti voglio bene però cioè non significa che lui non mi vuole bene ok ok io devo mancare di rispetto perché lui non mi dice quello che io voglio sentire dire che poi dice pastore non mi abbracci mai non ci possiamo abbracciare finalmente capisci non ci possiamo abbracciare ma dobbiamo la Bibbia ci insegna ad avere rispetto per quelli che si affaticano per l'opera del Signore per quelli che sono preposti su di noi che ci ammoniscano ci perfezionano per renderci sempre più santi è simile a Cristo Gesù e dobbiamo onorarli la Bibbia dice dobbiamo tenerli insomma stima prima vengono loro e poi vengo io prima devo compiacere loro e poi compiacio me e la Bibbia dice se tu non onori quello che vedi il fratello che vedi come puoi onorare me che non vedi e a volte sai le persone più strane Dio ce li mette davanti per cambiare per migliorare noi noi vorremmo sempre le fotocopie una persona che piace a me un pastore che piace a me un pastore che la pensa come me un pastore che mi dice sempre bravo buono bello fredele servitore ma come quando qualcuno ci corregge no ma grazie a Dio per tutte le correzioni che sono avvenuti nella mia vita perché quelli mi hanno insegnato a cambiare amen così vogliamo pregare questa mattina prima di dare la parola al fratello Rino vi chiedo soltanto dopo dieci minuti voglio chiedere se ci sono delle persone in mezzo a noi che ancora non hanno fatto la scelta di ricevere Gesù nella propria vita ma che questa mattina vogliono dire a Gesù Gesù io voglio conoscerti voglio che tu entri nel mio cuore se c'è qualche persona che vuole che Gesù venga ad abitare nel suo cuore alza la tua mano io voglio pregare per te questa mattina non vergognarti per favore la Bibbia dice non ti vergognare dell'Evangelo di Cristo perché essa è potenza e se c'è qualcuno che vuole ricevere Cristo vuole dire a Gesù Gesù io voglio conoscerti per favore alza la tua mano io voglio semplicemente pregare per te una persona alzati in piedi per favore se ci sono altre persone che vogliono dire a Gesù non ti sto parlando di una religione ma di una relazione una relazione con Gesù la Bibbia dice chi ha Gesù ha la vita e così è importante che noi apriamo il nostro cuore a Gesù e diciamo Gesù io questa mattina voglio fare una scelta voglio che tu vieni a vivere dentro di me lui non è materia lui è spirito e quando lui entra nel cuore di una persona lui cambia il cuore di una persona così tutti quanti accordiamoci e incoraggiamo questa persona a ricevere Cristo Gesù Signore questa mattina io vengo a te ripeti dietro a me per favore nel nome di Gesù ti chiedo perdono per i miei peccati e ti ringrazio e ti ringrazio che questa mattina ho l'opportunità di diventare un figlio tuo per mezzo del sacrificio di Cristo Gesù Gesù io questa mattina mi pento di tutti i miei peccati rifiuto tutto il mio passato e i miei peccati e questa mattina ti invito ad entrare nel mio cuore ti invito Spirito Santo a cambiare la mia vita ad aiutarmi a conoscere il Padre a conoscere il cuore di Gesù grazie Padre perché questa mattina tu mi accogli come figlio o come figlia nel nome potente di Gesù e per mezzo del sacrificio di Cristo Gesù io sono stato lavato da tutti i miei peccati nel nome di Gesù Amen e Amen Amen Alleluia Per favore tutte le persone che siete nuove tutte le persone che siete nuove un incoraggiamento che vi voglio dare non rimanete da soli noi abbiamo dei gruppi che settimanalmente si riuniscono stanno insieme meditano si edificano pregano l'uno per l'altro si parla di determinati argomenti si medita la parola ci si incoraggia ci si sostiene inseritevi in un gruppo prendete contatti con la sorella Gloria che sarà all'info point prendete contatto con lei che lei secondo la zona vi inserirà in un gruppo dove potete stare connessi non restate da soli perché la Bibbia dice guai al solo Amen così vogliamo chiamare avanti il fratello Rino accomodatevi un attimo accomodatevi cinque minuti gli diamo un microfono per favore grazie benvenuto fratello Rino grazie grazie sono io onorato di essere con voi questa mattina per condividere la missione che ho il piacere e l'onore di servire grazie pastore Maurizio innanzitutto per il tuo messaggio per la parola predicata soltanto per chi non conoscesse Compassion soltanto due parole Compassion è una missione internazionale che serve circa 8100 chiese nel mondo quindi il focus della nostra missione è un aiuto concreto pratico umanitario nei paesi più poveri ma soprattutto attraverso la chiesa quando ho studiato scienze politiche mi si diceva che la povertà era soltanto una questione materiale in parte è vero al tempo la nostra statistica diceva che chi viveva con meno di un dollaro al giorno era un povero ma nella mia esperienza anche viaggiando in alcuni paesi accompagnando dei sostenitori a incontrare il loro bambino sostenuto a distanza posso dirvi una cosa che la povertà sì ha un aspetto economico per chi non ha da mangiare possibilità di avere accesso a cure sanitarie bambini che non possono andare a scuola ma c'è un altro tipo di povertà che accomuna tutti gli esseri umani che possono vivere nel più alto palazzo di Manhattan come nel più povero soborgo di Nairobi è l'impossibilità di sperare il più povero fra i poveri è colui che non può sperare nulla ed ecco perché per noi il sostegno a distanza è un aiuto materiale abbiamo circa due milioni di bambini sostenuti nel mondo in 25 paesi al mondo fra centro latinoamerica asia e africa rispetto al tutto dentro la chiesa e per noi dare un aiuto concreto a un bambino attraverso sostenere a distanza so che ci sono sostenitori fra di voi e vi dico grazie per quello che state facendo riusciamo a dare cibo istruzione e cure mediche ma soprattutto la cosa più importante che è da speranza ed è la ragione per la quale siamo qua è dall'ascolto della parola di Dio Compassion è una missione che nel suo logo è liberare i bambini dalla povertà nel nome di Gesù ecco che vorrei farvi vedere un piccolissimo video di un paese nel quale noi siamo presenti che è la Colombia vi faccio fare un viaggio in Sud America per un'emergenza umanitaria che è quella che sta toccando il Venezuela potremmo abbassare sotto le luci e vedere il video? Grazie mille di Venezuelan famiglia che venivano a Colombia ho avuto per una vita ma ma le maggiori hanno finito in situazioni facendo comandamenti comandamenti e altri rischi che rendono molto vulnerabile l'impacto del Covid-19 ha avuto più grande sulle famiglie che sono già vulnerabile in un paese con i bambini con i bambini con i bambini niente e poi experiencing l'addition del fear e l'anxiety e l'hardship del Covid-19 on top of that. Praticamente nos vimos sin techo también, sin una casita. Personalmente yo me sentía como sola, abandonada por Dios, ¿no? Porque uno dice, Dios mío, eres tan grande y tienes tanto poder. Y nosotros aquí pasando de estas series de dificultades a causa de esta pandemia, por falta de alimentación y muchas cosas. Y llega esto así de sorpresa, fue algo maravilloso. Me llamaron a mí y para decirme que me iban a dar unos bonos. La cara de mis hijos de felicidad fue algo tan inexplicable, porque ellos, o sea, yo no lo podía creer y ellos ni se digan. Dios como que enviaba eso al momento, porque esos mercados llegaban cuando no teníamos para comer. Many of these Venezuelan families have nowhere to turn to. Compassion is making a big difference with the frontline church partners, assisting them. And in doing so, we let them know that they are not alone. Y eso era una misión para nuestras vidas, que eso como que poco a poco fue cautivando a Dios, haciendo sin la ayuda de la iglesia de Compassion, ¿no? Quizás no estuviéramos ni aquí. Es una gran, gran, gran ayuda. Seguramente saprete che il Venezuela está atraversando una grave crisis politica da diversi anni e ancora prima della pandemia circa un milione e mezzo di venezuelani hanno attraversato il confine per raggiungere la vicina Colombia. Compassion sta sostenendo circa 200.000 persone in questo momento, proprio persone che sfuggono da una situazione politica complessa, che non sto qua a spiegare, ma Compassion sta dando loro un aiuto concreto. E quello che mi ha toccato particolarmente di questo video è la storia di Dania, e le sue parole. Lei ha detto, mi sembrava che Dio mi avesse abbandonato. Ecco, quando tu hai sostenuto un bambino a distanza, il giorno in cui tu l'hai fatto, se è stata la risposta ad una preghiera. E quindi il mio appello molto semplice è questo. Oggi potete sostenere un bambino a distanza con Compassion, potete compilare una piccola scheda di sostegno come questa, semplicemente lasciando il vostro nome, cognome, l'indirizzo di casa, un'email e un cellulare o un riferimento telefonico, nient'altro, si compila in qualche secondo e noi potremmo vedere un bambino, una bambina che è più urgente. Un tempo mettevamo, ovviamente, prima del Covid, le schede di sostegno, potevate vedere la bambina, ha detto, o il bambino, adesso potete semplicemente suggerirmi se preferite un'area geografica particolare, se preferite un bambino o una bambina. E noi troveremo nel database il bambino o la bambina più urgente in questo momento. E per ringraziarvi vorremmo lasciarvi il nostro calendario, la nostra rivista e una nostra mascherina che in qualche maniera è utile, non soltanto è utile, ma rappresenta anche il segno tangibile di un gesto che stai facendo verso una famiglia. L'emergenza Covid è particolare perché noi operiamo in Latino America e in Africa dove difficilmente è possibile mantenere il distanziamento sociale. Ho vissuto a Nairobi, nelle più grandi baraccopoli, dove vivono 8-9 persone dentro 20 metri quadrati. E quindi immaginate quanto velocemente sta toccando la pandemia e non ci sono strutture sanitarie in grado di rispondere a questa emergenza. Quindi vi preghiamo di rimanere uniti a Compassion, di pregare per Compassion, di sostenere la nostra missione perché da un aiuto concreto attraverso la chiesa locale e queste famiglie possono... Non è Covid, eh? possono ricevere un aiuto pratico e immediato. Grazie, grazie innanzitutto per quanti sostengono. In qualche maniera la nostra visita è per ringraziarvi. Io sarò laggiù in fondo, prima dell'uscita, con il materiale informativo, con delle penne igienizzate, quindi non avete paura. Prendete quella penna, ve la potete tenere, non è un problema questo. E potete riconoscermi dalla mia folta capigliatura, sono laggiù in fondo, per darvi tutte le altre informazioni. Ma soprattutto vorrei ringraziare la Coppia Pastorale e questa chiesa per come è vicina. Ultimo appello. Il 18 di dicembre noi avremo un concerto online con Angelo Maugeri e tantissimi altri grandi artisti, con Gio Porrello che ha appena fatto un viaggio in Rwanda straordinario con noi, in Uganda scusate, e ci saranno testimoniali di eccezione del calciatore Falcao, Neymar, abbiamo anche Juan Quadrado che è un nostro sostenitore, Cristian Ansaldi, e abbiamo tanti altri artisti di fama internazionale. Pensate che c'è un artista che in Brasile ha soltanto 12 milioni di follower. È un concerto che sarà in Italia, Spagna, Portogallo e Brasile. Quindi vi chiederei poi di seguire questo evento sulla nostra pagina Facebook e continuate a sostenere la nostra missione. Grazie di cuore, Dio vi benedica. Grazie fratello Rino, quindi come è stato detto fuori lo troverete, per chi ha nel cuore, per chi non ce l'ha fatta volomettere, nel cuore di sostenere è importante. La Bibbia dice che chi avrà dato un solo bicchiere d'acqua a uno di questi piccoli l'ha dato a Gesù. Gesù è molto pratico, quindi, e poi vi posso dire per mia esperienza personale, comunque quando noi aiutiamo gli altri, Dio provvede per noi. Amen? Abbiamo tante testimonianze, tante cose non le possiamo raccontare pubblicamente, ma tante testimonianze di fratelli che sono stati grandemente benedetti per aiutare altri. Ok? Ok, alziamoci in piedi e vogliamo ringraziare il Signore per questa parola di questa mattina che metteremo in pratica. Noi non siamo uditori, ma siamo facitori. Uditore è una parola, una zona dove abitavo io a Palermo, ma noi siamo facitori. E quindi dobbiamo mettere in pratica la parola. Hallelujah! Padre, Signore, ti vogliamo ringraziare per questa parola di questa mattina. vogliamo anche pregarti, Signore, per tutti i fratelli e le sorelle che sono stati e sono ancora impossibilitati di poter venire a motivo, Signore, del Covid o di altre, Signore, patologie. Vogliamo reclamare il Tuo favore, la Tua grazia sulla vita dei nostri fratelli, delle nostre sorelle e ordiniamo nel nome del Signore Gesù Cristo che ogni malattia lascia i corpi dei miei fratelli, delle mie sorelle e nel nome del Signore Gesù Cristo e ti chiediamo, Spirito Santo, che la Tua unzione, la Tua grazia, il Tuo favore, la Tua benedizione scenda ora su di loro, Signore, e che possano accadere, Signore, istantanei miracoli di guarigione e liberazione nel nome potente del Signore Gesù Cristo che ha la tosse, che la tosse possa lasciare i nostri fratelli, che ha la febbre li possa lasciare nel nome di Gesù, che ha dolori possa lasciare i corpi dei miei fratelli e delle mie sorelle e che la potenza dello Spirito Santo possa dare forza e vigore. Signore, grazie per la Tua parola che ci hai donato questa mattina. Noi ci impegneremo a praticarla, Signore, a mettere in pratica la Tua parola perché sappiamo che è medicina per i nostri corpi, per la nostra anima, è refrigerio per i nostri nervi, Signore, ma soprattutto è benedizione per poter raggiungere il proposito per la quale Tu ci hai chiamato. Benediciamo, Signore, ancora questo territorio e tutta la semina che faremo nel nome del Signore Gesù. Benediciamo le famiglie, le autorità in genere, politiche, Signore, le autorità come forze dell'ordine. Benediciamo gli insegnanti delle scuole, benediciamo tutti coloro che lavorano negli ospedali, i medici, i paramedici, i infermieri, Signore, coloro che fanno le pulizie. Reclamiamo al Tuo favore, la Tua grazia, la Tua forza, Signore, che possano ricevere ognuno di loro una parola di speranza. Signore, reclamiamo su di loro la Tua benedizione nel nome di Gesù. Amen e amen. Chiudiamo con un canto. Dio è buono, quindi quando uscite, uscite dalla porta, c'è il fratello Rino che vi aspetta. Benedizioni a tutti quanti voi e buona domenica. Grazie. Grazie.